Samuele, un altro test, il terzo stagionale, prosegue la preparazione e ci avviciniamo sempre più alla serea. Certo, tutti i test che hanno dato riscontri positivi, si vede anche nell'allenamento, ci stiamo allenando benissimo, si va praticamente tutti a 2000, anche i ragazzi che si sono aggregati da poco della primavera stanno facendo il massimo, stanno chiedendo quello che vuole il mister, ma questo un po' tutti e si vede anche in campo. Fa caldo, adesso è il momento probabilmente più duro della preparazione dove si fatica, però all'orizzonte c'è andare a giocare contro le migliori squadre italiane, andare a giocare il massimo campionato e credo l'entusiasmo e la voglia sia enorme. Sì, il caldo c'è un po' per tutti, anche per altre squadre, però bisogna pensare anche alle difficoltà che sicuramente avremo di fronte nel nostro futuro, perché ci aspetta un campionato molto difficile e quindi bisogna fare del nostro meglio. Siamo a metà del percorso, poi c'è la Coppa Italia, come sta nascendo questo Empoli e come hai trovato Ereo Andriazzoli che tu ritrovi, diciamo, lo hai visto che eri ragazzino e adesso lo ritrovi in pianta stabile? Certo, sì, io ce l'ho avuto, ci sono allenato tre anni fa, l'anno appunto della Serie A, io giocavo in primavera e si è subito installato un buon rapporto, ci ha dato delle idee ben precise, penso che le stiamo facendo, soprattutto cercare subito il verticale, il fraseggio e quindi niente, continuiamo così ad allenarci che stiamo facendo tutti bene.